Un tribunale ruandese ha riconosciuto colpevole di terrorismo Paul Rusesabaghina, l'uomo che salvò centinaia di persone durante il genocidio dei Tuzzi nel 1994 e la cui storia è raccontata nel film Hotel Ruanda, in cui viene interpretato dall'attore Don Ciddle. Secondo la Corte, avrebbe sostenuto il braccio armato del partito d'opposizione e movimento ruandese per il cambiamento democratico, che si fa chiamare fronte di liberazione nazionale ed è accusato di diversi attacchi terroristi nel paese. L'uomo, 67 anni, grande critico del presidente Paul Kagame, si dichiara innocente e vittima di una vendetta governativa per le sue posizioni politiche. Ha vissuto per anni in esilio fra Belgio, paese di cui ora è cittadino, e Stati Uniti, poi un anno fa è sparito durante un viaggio a Dubai e ricomparso in Ruanda. Mio padre è belga e il governo di Ruanda avrebbe dovuto usare metodi illegali per riportarlo indietro, accusa la figlia Karin Kanumba. Il fatto che lo abbiano rapito, messo su un aereo privato e portato in Ruanda con la forza, mostra che neanche loro credono nella legittimità delle loro accuse. La famiglia chiede un intervento del governo belga in attesa della pena ancora da decidere. Rischia l'ergastolo. Grazie. Grazie.